Perché avete lasciato di scrivermi, oh carissimo? Va forse dispiaciuto qualche cosa nell'ultima mia? Se così è, già sapete di certo che la dispiace molto meno a voi che a me, ma io non so che cosa possa essere stata. Questo so, che né voi senza ragione a dirarvi, né io se non contro il volere e l'opinione mia v'ho potuto offendere. Ma non perdonerete voi un primo fallo o anche un terzo e un quarto ad un amico? E ad un amico come son io? E un fallo poi senza dubbio involontario, poiché neppure congetturando posso conoscere né come né se io abbia fallato? Ma se anche volete punirmi, punitemi, altrimenti che col silenzio, e non vogliate usare con me l'estremo del rigore. Abbandonerete anche voi così solo e abbandonato come sono? E quando ho bisogno di conforto per sostenere questa infelice vita, voi, seguitando a tacere, seguiterete a sconfortarmi infinitamente come fate? O vi sono improvvisamente uscito della memoria ed è possibile che vi siate scordato o affatto di uno il quale sapete che se morendo potrà ricordarsi? Morendo si ricorderà di voi? o c'è forse qualche altra ragione del vostro silenzio? Per amor di Dio scrivetemelo e subito e qualunque cosa e comunque sia scrivetemi e fatelo come vi piace che purché mi scriviate sarò contento.